Non è data sapere l'area di residenza del minorenne denunciato per la diffusione di messaggi di propaganda all'ISIS attraverso Telegram. Le forze dell'ordine, per evitare che si possa risalire all'identità del giovane in quanto ancora non maggiorenne, si sono limitate a indicare che le attività del ragazzo si sono sviluppate nelle province di Udine e Trieste, compresa la presunta intenzione di mettere a punto un ordigno rudimentale da utilizzare a scopo terroristico nella scuola da lui frequentata. Secondo quanto emerge dagli investigatori sul profilo del ragazzo, si è delineata in lui una forte determinazione a svolgere un ruolo da leader ed appunto di riferimento per tutti coloro che intendevano partecipare attivamente alla causa jihadista. A tal fine aveva creato un canale su Telegram dal titolo in arabo Stato Islamico Frontiera d'Europa, con circa 60 membri affidando ai componenti del gruppo la traduzione in lingua spagnola, francese e italiana delle notizie da lui reperite, per diffonderle nel modo più capillare possibile. La condotta è risultata aggravata in quanto commessa attraverso strumenti informatici e telematici. Andando a fondo con le indagini poi, la dirigente della polizia postale del compartimento di Trieste ha affermato che il ragazzo è seguito da un team di psicologi con cui sta collaborando. Proviene da una famiglia tranquilla che vive di onesto lavoro, che nulla si era accorta riguardo l'indirizzo che stava prendendo il giovane. Quando la famiglia si è trovata, la polizia che andava a bussare alla porta, c'è stato un momento di sgomento, ha raccontato la dirigente della polizia postale. Il ragazzo all'inizio è stato molto tranquillo, si è dotato di una capacità di autocontrollo non indifferente, superiore anche alla sua età, ma poi ha capito che la sua ideologia e tutto quello che aveva fatto poteva ripercuortersi proprio sulla sua famiglia. Il giovane, per il grande amore che ha per i suoi cari, ha cercato prima di negare, poi si è reso collaborativo e proprio per questo aspetto gli agenti sono convinti di una deradicalizzazione del giovane.